Quattro match ball annullati nel quarto set, ve la siete vista brutta, ma poi avete ripreso alla grande nel tiebreak. Sì, colpa mia, colpa mia, il quarto set, ho fatto due cazzate alla fine, la battuta fuori di Olek, poi mi sono fatto murare, mura tre una paia, va bene dai, l'importante è la reazione di squadra e abbiamo vinto a Palatrento, quindi la maldizione è finita, bravi, complimenti alle squadre. 2-0 nella finale Scudetto cosa vuol dire? Niente, se il regolamento non è cambiato bisogna vincere tre per vincere Scudetto, quindi abbiamo fatto un grande passo, però ancora dobbiamo vincere una partita per vincere Scudetto.